La famiglia D'Ammella viveva in un paesino del Meridione ed era ricca. La loro casa veniva pulita da donne povere e i loro campi coltivati da uomini poveri. Li pagavano con spiccioli, neppure sufficienti a nutrirsi quanto bastava. Il padre dei D'Ammella gridava ordini da un lato all'altro delle vie, esigeva, tuonava, spaventava. Nelle feste i D'Ammella sedevano nei primi banchi della chiesa, quelli più belli e più lucidi. Da molte generazioni erano ricchi e si erano arricchiti facendo lavorare i contadini dal mattino alla sera, tante volte neppure pagandoli. Li costringevano a una tale fame che il contadino era costretto a rubare qualche patata e qualche melone. E una volta scoperto, per tirarlo fuori dal carcere, i parenti dovevano indebitarsi impoverirsi ancora di più per pagare un avvocato, parente dei D'Ammella. Verso gli anni settanta, i D'Ammella vendettero parte delle terre e si trasferirono a Milano, dove comperarono delle sale cinematografiche, nelle quali da alcuni anni proiettano film pornografici. Il dottor Chiamelli era un cugino dei D'Ammella. Era il dottore del paese e tutti si rivolgevano a lui. Riceveva al mattino dopo le undici se ne aveva voglia e non dava mai il buongiorno ai malati. Era sposato con tre figlie e di giorno in casa, oltre alla cameriera, teneva un'anziana portinaia che da una finestra sbarrata osservava i visitatori salire la via che conduceva al portone. Una notte, una partoriente, ebbe bisogno del dottor Chiamelli. Bussarono a lungo al portone, gridarono, chiamarono, ma il dottor Chiamelli stava vedendo il festival di Sanremo. E non aprì perché amava molto le melodie, e della nuova vita che per iniziare aveva bisogno del suo aiuto non gli importò molto. Ritornarono più volte nella notte a bussare, ma il dottore, cudutesi le canzoni, si beve alcuni amari e andò a dormire. E così il bambino nacque morto. E il giorno dopo al padre, che per strada trovò il coraggio di dirgli che avrebbe meritato di essere denunciato, rispose di provarci soltanto e negò di aver passato la notte in casa. Qualche anno più tardi al dottor Chiamelli si ammalò una figlia di tumore e corse a destra e a sinistra, e non dormì più e non si diede pace vedendosela morire. Ma ciò non lo addolcì. Rimase cattivo e indifferente ed animo sempre superbo. E mortagli la moglie si trasferì anche egli a Milano, dove ogni tanto va a trovare i Dammella, e parlano del loro buon tempo, quando tanta gente stava male a causa loro. Grazie. 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 Grazie.